bene bene buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a questo legal tech day anche oggi siamo in web edition è la prima edizione di questo grande evento speriamo di poterne organizzare tanti altri insieme con tutti voi intanto un grazie particolare ai partner di questo evento che ci hanno permesso di organizzarlo e leggo in ordine alfabetico a partire dagli studi di l.a. piper derberg smith freehills e poi le aziende elibra rocket team system inoltre questo evento in collaborazione con italia legal tech che è una piattaforma che lanciamo oggi quindi andate a vederla italian legal tech punto com o italian legal tech punto it è una piattaforma la prima piattaforma in italia che vuole avere l'obiettivo di mettere insieme tutto il mondo che ruota intorno al legal tech a partire ovviamente dal mondo delle aziende fruitrici di legal tech che poi molte di loro diventano anche produttrici di legal tech però diciamo dalle direzioni affari legali che sono la parte terminale del processo che riguarda il legal tech cioè la parte di domanda di servizi legali e su questa piattaforma poi è chiaro che vogliamo far ruotare anche tutto il mondo dei fornitori di servizi legali quindi degli studi legali il mondo delle aziende produttrici di legal tech il mondo della ricerca che si muove intorno al legal tech tra l'altro oggi avremo con noi fra i panelist una importante esponente claudia sunday professore associato di diritto commerciale dell'università di padova insomma il mondo degli investitori della finanza che si muove intorno al legal tech il legal tech ormai è oggi noi due anni fa abbiamo pubblicato un libro scritto dal direttore nicola di molfetta l'ex machine che ancora ovviamente acquistabile per chi ne fosse interessato però due anni fa ne parlavamo come di un futuro prossimo oggi è il presente e il presente sarà sempre più il presente oggi parlare di mercato legale significa parlare di legal tech e non si può non parlare di legal tech se si parla di mercato legale io adesso mi fermerei qua su questa quindi seguiteci su italianlegaltech.it italianlegaltech.com fateci sapere se avete bisogno di informazioni su come aderire come far parte di questa di questa piattaforma piattaforma che prevederà una serie di incontri fisici poi speriamo da maggio in poi dedicati solo a coloro che fanno parte per un confronto su quelle che sono le ragioni del legal tech oggi prima di lasciare la parola vi ricorderei che noi iniziamo adesso con alcuni interventi poi una tavola rotonda fra circa 30 minuti 25 30 minuti molto importante dal titolo l'età dell'efficienza i clienti chiedono efficacia e controllo dei costi gli avvocati come rispondono poi ci sarà una sessione di q&a alle 11 e 30 inizierà una seconda sessione ovviamente il break per il lunch non andate via perché le 15 e 30 si riprende con una tavola rotonda ulteriormente importante e vi invito a seguirla perché parliamo di impatto del legal tech sui conti e sui numeri sostanzialmente sulle revenues e quindi diciamo un argomento assolutamente di grande interesse perché poi è quello che ci dà la vera corrispondenza il rapporto causa effetto fra legal tech e business e quindi interessa sicuramente tutti e poi ci sarà una conclusione diciamo attraverso dopo una serie di interventi con un closing spritz con il direttore nicolai di molfetta e con claudia sandei professoressa dell'università di padova quindi la giornata è bella lunga bella piena bella densa stimolante ovviamente intervenite fate domande attraverso la piattaforma della quale ci seguite noi siamo qui e niente buona giornata a tutti non andate via adesso 10 secondi perché io vado via e arriva qua il prossimo ospite che poi è il padrone di casa nicola di molfetta grazie bene buongiorno grazie ad aldo per avere insomma introdotto i lavori di questa giornata non vi nascondo di essere particolarmente contento di poter introdurre l'appuntamento di oggi questo perché come ha ricordato aldo quando nel 2019 ho scritto l'ex machine l'ho fatto perché ero convinto che questa trend della tecnologia applicata al mercato dei servizi legali sarebbe stato un trend che avrebbe avuto un impatto sul mercato nazionale italiano molto forte nel giro di pochissimo tempo e questo è talmente vero che noi oggi ci troviamo a organizzare un primo legal tech day italiano a febbraio 2021 dopo un 2020 che è stato l'anno che tutti sapete l'anno segnato dalla pandemia di covid 19 quindi un anno in cui teoricamente i mercati il mondo avrebbe avrebbero avuto uno straordinario alibi per frenare un processo che era in corso ma il mercato ci ha insegnato che i processi che sono in corso difficilmente vengono frenati e da come dire barriere legislative normative che vogliono impedire l'evoluzione di un settore e persino da una emergenza tragica emergenza sanitaria come quella che abbiamo vissuto e per certi versi stiamo ancora affrontando tecnologie legali oggi saranno al centro del dibattito non è materia per futurologi è materia per chi sta nel mercato ed è materia da cui non si può prescindere per se si vuole continuare ad avere un ruolo all'interno di questo settore abbiamo ricordato i titoli delle tavole rotonde che si susseguiranno nel corso della mattinata li vedete chiaramente quanto sia concreto il livello del dibattito che stiamo affrontando non non stiamo discutendo di fantascenari legali ma stiamo discutendo del presente molte delle storie che ho raccontato in lex machine nell'ultimo anno hanno visto degli sviluppi fondamentali e parliamo di italia non soltanto di estero noi siamo abituati a leggere da buoni italiani e grandi esterofili quali siamo a leggere tanta letteratura scientifica anglosassone straniera futurologi in italia la futurologia è qualcosa che lascia un po interdetti noi abbiamo cercato di ragionare sull'esistente su ciò che veramente accade su ciò che veramente si fa su ciò che veramente viene utilizzato dagli studi legali dei professionisti nel nostro paese e i fatti ci stanno dando ragione perché per l'appunto abbiamo assistito alla nascita di studi progetto progetti professionali incentrati su singoli prodotti legali ad altissimo contenuto tecnologico all'interno dei quali l'innovazione ha sia ovviamente un un co te tech ma anche un co te di processo fondamentale abbiamo assistito alla nascita e alla come dire prima affermazione di alcuni alternative legal service provider forditori di servizi legali alternativi che cominciano a moltiplicarsi gemmando iniziative l'una che parte dall'altra stiamo cominciando a osservare i primi tentativi di collaborazione concreta pratica strategica tra studi legali e legal tech start up legal tech quindi piccole aziende che nascono spesso non in ambiente legale ma che puntano a fornire un pezzetto della catena del valore che serve agli studi legali e che è richiesta dai clienti di questi studi legali quindi lo scenario che si va delineando è uno scenario che va ben oltre no il livello della curiosità o della notizia come dire da 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 scenario futuristico è stato detto da aldo scaringella prima parliamo del presente saranno tutti discorsi al presente quelli che verranno fatti oggi e credo che la professoressa sunday che prenderà la parola fra fra poco ci darà degli elementi molto netti per aiutarci a entrare in questa dimensione del nostro del nostro discorso io per parte mia posso sicuramente aggiungere questo l'innovazione il cambiamento hanno sempre spaventato l'uomo qualche giorno fa rileggendo una delle opere di umberto eco che stanno venendo rieditate da un grande gruppo editoriale italiano assieme ai suoi quotidiani sono stato colpito dall'incipit di uno di questi scritti in cui si ricorda no come nel fedro platonico il faraone si rivolge al dio toti inventore della scrittura e gli chiede ma questa cosa della scrittura ma non farà sì che gli uomini smetteranno di pensare non dovendo più essere costretti a ricordare quello che succede potendolo scrivere probabilmente smetteranno di pensare ecco ogni innovazione ha sempre spaventato l'uomo è sempre avuto un ruolo destabilizzante bene noi crediamo invece che le innovazioni vanno conosciute che questi meccanismi di evoluzione del mercato vanno vanno cambiati e vanno in qualche modo cavalcati e è doveroso da parte di chi fa parte di questo settore conoscerli e cominciare a utilizzarli a proprio beneficio e non dimentichiamolo a beneficio dei propri assistiti se volete è proprio questa la più grande innovazione di tutte portata dalla cultura legal tech la cultura legal tech dice ai professionisti del settore non pensate soltanto a quale possa essere il modo più conveniente per voi per erogare determinati servizi dovete pensare a di cosa hanno bisogno i vostri clienti qual è la domanda che c'è sul mercato quali sono le esigenze dei vostri assistiti e in questa chiave strutturare il vostro studio legale la vostra organizzazione professionale i servizi che voi fornite e così via con questo cambio di prospettiva secondo me si riesce a capire abbastanza facilmente che quello che da tanti viene dipinto come uno spauracchio capace di eliminare posti di lavoro distruggere competenze frustrare professionalità e così via in realtà diventa ciò che è realmente cioè uno strumento uno strumento grazie al quale avvocati giuristi di impresa e tutti gli operatori del diritto saranno sempre più in grado di svolgere nel migliore dei modi possibile il loro mestiere e la loro professione